Questa squadra deve giocare su posizione e sul ritmo, quando poi si sente appagata e metà squadra vuole difendere vantaggio e metà squadra vuole fare altri gol, non si riesce a giocare insieme. La squadra si deve rendere conto che o gioca un calcio o gioca un altro, non si può in una squadra giocare due calci diversi, sono sempre convinto che questa squadra può fare meglio in trasferta che in casa, nel senso che troverà meno chiuso. E poi i risultati, ripeto, Modena il risultato non c'entra con quello che è successo sul campo e lo stesso a Reggio Calabria per me la squadra ha fatto meglio dell'avversario, poi per vincere ci vuole fare più gol di avversari e a Reggio non ci siamo riusciti.